Cos'era? Ma che tuo, che caspita nessuno io Ce la possiamo fare? Poi dopo, sì Cioè, quelli di sopra con le sedie, le macchine Io che cerco di dire, dai, magari non si sente Ma sì che si sente ed è anche brutto Moto La moto, pure la moto ovviamente Le moto non possono non esserci Sgommiamo Più non posso Però mai una volta che magari si ribalta Capisce che non deve sgommare Non sgomma più, no? Che dite? Invece no, devono fare caos Come se non ci fossero male, bitch Magari scoppiasse Che cos'era questo? Ma cos'è? Shit Cos'era? La mia pancia Vabbè Ma vai cosa? E vai via te, Ninio Vai, 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 vai Te Io dopo vado a vedere chi c'è giù Cioè, avete tutti i giorni della settimana Io mi prendo due giorni alla settimana Per un'ora e mezza Un'ora, due ore massimo E puntualmente Dovete fare caos In quei momenti Beh A te A voi non sembra giusto? A me sì Ma che stanno facendo? Sì, vabbè È un continuo qua Sì Cos'è? Santissimi Qua finisco per spaccare tutto Ma sento lo stiro di Il fiero da stiro di mamma Abbiamo un aereo sopra Aspettiamo che finisca di passare Mazzate Ma dico io Perché non fanno silenzio? Mh? Ok Ma le ossa possono smettere di fare tac? Cioè Vabbè Tutti i cani del mondo sono in questo condominio O in giro vicino qua Perché sta arrivando l'oragano? Aspettiamo che c'è un bel ucchio qua Un bel ucchio Come mai dare un bel ucchio? Che caos C'è Dopo un pro Mamma mia E poi Capito sto D ancora Basta Quindi una serie B Che che batte? No che caspita sta D Ed è stato morso appunto da un alba Sciacquone Che caspita era? Queste io le faccio arrivare qua Sì se non palmano Se non palmano I palmi Se non palmano i palmi Chi le fa? Chi le fa? Le noci di cocco? Se non le palme? Non fateci caso Lo vedete questo? Vi arriva in testa Lo lancio Lo lancio contro qualcuno Cominciamo subito Fa un caldo Che neanche io Cioè neanche morti Cosa essere Tutto questo caos Ma quanto sono belli C'è A quale somiglia di più? C'è Quelli di sotto Di lato Di sopra Non lo so neanche io Che parlano Sto cane Che non finisce più Di abbaiare Le macchine Le moto Che passano In continuazione Appunto E boh Devo aspettare Due minuti Cinque minuti Io aspetto Poi Vado a tirarvi qualcosa Perché non si può Monumentale che abbiamo Qua in Italia Ma che caspita C'è lo costa Monumentale Teppel Oddio che sanno Oh FabiJ Ciao Che spera sta di questo FabiJ Cerese C'è il micro Che spera sta di questo Oh FabiJ Ciao Questo Non Stava Bene Questo non Stava Cioè solo per il microfono Solo per il microfono Non lo so Vado Così un colpo Si Ma questo caos Sperenne Ma se non c'è una macchina Questo caos Da dove arriva Vi spiego Cos'è successo Mi è appena caduto Un pezzo di ghiaccio Per terra E si è spaccato I mille pezzi E ho il pavimento Bagnato Ma l'ho asciugato Col calzino Perché ovviamente Col calzino Si asciuga La venite Brotto Faccio solo Disastri Ma io i disastri Li faccio solo per voi Ricordatevelo Ma chi è Vicino A Vicino B O vicino C Sopra Sotto Di lato Scegliete voi Quale vi piace di più Scrivetemi nei commenti Secondo voi Chi è Sopra Sotto Di lato Ditemelo voi Ok Voi Voi Per me sono uguali Tanto Fanno rumore Entrambi Anzi tutti e tre Che caspita di pace Era questo 92 sto cavolo Con sta moto Ssss Oddio 45 Eh si domani Che caspita stava di Ok Ok Un bel niente Non ti preoccupa E dai Salute Ma stanno tagliando l'erba Ora C'è Tra tutti i giorni Della settimana Tutte le ore Io che chiedo Due ore a settimana Lì Dovete tagliare l'erba E già che ci sei Dico Fammi tutto l'isolato In modo che Sto qua 20 minuti Voglio morire Il tagliarbo Quando finisce Perché a me sembra Un delitto Registrare Il Metagosto Dove tutti Sono in vacanza Alle Alle due e mezza Del pomeriggio Pensando Che non possa esserci Un tagliaerba Cosa è esploso Secondo voi Non era la moto Di questo qua sotto Sì Grazie 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 Grazie